a tutti questo pomeriggio caldo cominciamo la nostra seconda battuta di pesca con i bambini siete pronti ok allora partiamo incominciamo la pesca con questi dubbi mangiato preso non preso continuiamo inneschiamo e continuiamo poi sali che hai una tono amo ti ti metto lato in sabato tiralo su tiralo su bravo assolvatore bravo assolvatore bella preda di sarà la porta io rendi schiamo dai che qua sono mangiato salvo gabriele ci stiamo provando il nostro nuovo carrello servitore per innescare posizionato al centro qua di questi due bimbi che pescano forse cosa abbiamo lì hanno mangiato e tu invece che abbia sentito solamente ho capito e probabilmente ne mangiato sarà due invece sente qualcosa ho mangiato tutto spostiamoci cambiamo posto già tutti innescati pronti per calare al momento del dell'arrivo sul nuovo posto di pesca ciao ciao continuiamo a pescare ciao mettiamoli nel ghiaccio papà si lavava le mani da dentro cosa ragazzi abbiamo fatto una bella pescara ancora dobbiamo finire non mi avete dato neanche il tempo di fare le riprese oggi sono stati tutti bravi che hai preso hanno mangiato recuperiamo noi recuperiamo e ci spostiamo in un altro posto ah infatti non la mangio nuova postazione nuovo posto nuovo giro buttiamo a mare aiuto così si è bloccato il mio piede forza Gabri ci sei ancora da tu stesso abbiamo giocato e io ho preso subito il pesce pesce a scarrozzo brava non so come sarà se sarà femmina o maschile ma che ti interessa e poi il maschio bella preda mangiato e voi qua invece che ridete niente è mangiato guarda che bella c'è la nostra nonna bravo mangiato nessuna toccata no manca una toccata zio perché abbiamo caduto ora a ora vediamo se si avvicina qualcosa tu Gabri non sono proprio soddisfatto pomeriggio di pesca è terminato qui ora rientriamo ciao un saluto a tutti ciao la serata finisce qua anche oggi pomeriggio i bambini si sono difesi sono difesi hanno preso un po' di pettini un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti